Maria quanti anni in Remax no 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 scusa scusa di fallo tre mesi in platinum bellissima esperienza sette incarichi una vendita sperando di prenderne aspettando entro l'anno buon natale tre due uno va buon natale platinum basta una merda Eleonora dimmi Maria dopo dieci anni in Remax i nostri grandissimi broker ci dovrebbero offrire una convenzione con lo psicoterapeuta Saverio annesci risotti tanti auguri di buon natale un anno pieno di serenità di pace e di prospettive e sicuramente non mi piace ho deciso di affiliarmi in Remax perché oltre ad essere una grande famiglia aiutiamo tantissime altre famiglie e penso che oltre ad essere un augurio per il Natale e per le feste può essere un augurio per ogni giorno Ne approfitto per augurarvi un anno pieno di opportunità di prospettive e un anno colmo di piccoli gesti che riempiono il cuore Grazie